ciao a tutti allora moltissimi di voi mi stanno chiedendo in questi giorni che cosa si può fare come funziona il sistema della rappresentatività sindacale ne abbiamo già parlato in diversi video ma in questo momento facciamo un riassunto estremamente short di un paio di minuti allora nell'ambito degli accordi collettivi il sistema di negoziazione dei contratti va con la rappresentatività sindacale la rappresentatività sindacale è regolata essa stessa all'interno dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e viene definita per il livello sostanzialmente nazionale nel seguente modo ogni mese di gennaio viene rilevato a cavallo 31 12 primo gennaio viene rilevato il numero di persone il numero di medici che hanno dato la delega sindacale che cosa significa significa che su tutti i medici al lavoro si vanno a vedere quelli che sono iscritti a una qualunque organizzazione sindacale di queste organizzazioni sindacali quindi tutti gli iscritti rappresentano il 100 per cento di rappresentatività quindi attenzione se su 100 medici ne sono iscritti solo 10 il calcolo viene fatto su questi 10 questi 10 sono il totale complessivo dei medici che hanno espresso una delega sindacale per essere rappresentati a questo punto si vanno a contare i sindacati definiti maggiormente rappresentativi che hanno una minima percentuale che se ben ricordo credo sia il 5 per cento potrei sbagliarmi e che cosa quindi succede che di tutto il 100 per cento dei medici che hanno dato la delega si vanno a calcolare le diverse percentuali sigla per sigla queste percentuali determinano la potenza diciamo negoziale sul contratto e chi detiene il 50 per cento più uno delle deleghe da solo o sommando più sigle sindacali ha la possibilità di firmare questi accordi che valgono però su tutti i professionisti questo almeno a livello nazionale quindi che cosa succede che il sistema di rappresentatività è molto importante perché di fatto chi non esprime nessuna preferenza abdica alla decisione abdica al diritto di farsi rappresentare e quindi delega ad altri le decisioni non è autonomo non è che lui è più furbo degli altri o siccome non crede nel sistema se ne tira fuori semplicemente subisce le decisioni di coloro che invece hanno scelto di dare una delega sindacale e hanno scelto di farsi rappresentare questo è il sostanzialmente il punto bene quindi questo è il primo il primo concetto molto importante se su 100 medici solo 10 sono iscritti di questi 6 sono iscritti a una sigla sindacale quei 6 decidono poi per tutti e 100 nell'ambito della negoziazione dei contratti il secondo punto importante da capire è che la delega può essere data o può essere tolta in qualunque momento a qualunque sigla sindacale e questo ha dei diversi effetti su base nazionale la rilevazione della rappresentatività è annuale e quindi ogni anno può variare vengono rifatti i conteggi e poi ovviamente questo è una linea generale anche per gli altri livelli negoziali ma attenzione che a livello periferico possono completamente essere stravolti i bilanci un ulteriore elemento che è quello relativo alla firma dei contratti e degli accordi non entro nel in ogni minimo dettaglio ma nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale quello che è importantissimo sapere è che la regola diciamo è che solo chi è firmatario dell'accordo nazionale può sedersi ai tavoli regionali e poi ai tavoli aziendali questo diciamo è una tagliola qualche cosa che stritola le organizzazioni sindacali soprattutto quelle che magari hanno protestato e non avevano i numeri per arrivare al 50 per cento più uno e quindi che cosa succede che nel momento in cui il 50 per cento più uno sottoscrivono un'intesa e nell'ambito della medicina generale sappiamo che il sindacato maggioritario è uno ovviamente questo quindi nel momento in cui firma rappresenta a un numero di deleghe che sono superiori al 50 per cento più uno quindi di fatto una volta che firmano loro tutti gli altri rischiano di dover firmare tecnicamente per potersi continuare a sedere sia ai tavoli regionali che ai tavoli aziendali nel 2005 è accaduto che per esempio anche snami non sottoscrivesse l'accordo collettivo nazionale e questo è stato catastrofico nel senso che è rimasto in piedi il principio è stata una decisione di principio che io condivido pienamente nel momento in cui non si condivide un contratto non lo si deve firmare ma la tagliola ha provocato ovviamente tanti anni di battaglie legali per essere poi riammessi con molto ritardo e con capacità limitate a livello dei tavoli decentrati questo alla fine purtroppo non è stato un bene per nessuno e quindi non sappiamo che cosa accadrà nei prossimi giorni nelle prossime settimane ma il rischio è che ovviamente come è già capitato nella sede di prima firma è che alcune organizzazioni abbiano firmato gioco forza perché tanto se ha firmato il primo che ha più del 50 per cento più uno è necessario che poi firmino anche gli altri per non essere completamente cacciati fuori quindi non avere più diciamo possibilità di fare anche un po di controllo dei danni diciamo così di come viene organizzato il lavoro a livello periferico regionale o aziendale ora che cosa si può fare concretamente quindi chi non ha una delega deve esprimere una delega la esprima per il sindacato che ritiene rispecchi di più le proprie idee le proprie prerogative le proprie aspettative e ma la esprima perché non esprimere una delega significa di fatto abdicare alla decisione e di fatto non essere contato in quella percentuale su cui viene calcolata la rappresentatività ovviamente se non si è concordi con le scelte di un'organizzazione sindacale se non ci si è sentiti resi partecipi eccetera bisogna far presente questa cosa all'organizzazione sindacale di appartenenza e laddove ci siano le motivazioni insomma ci sia la volontà eccetera eccetera ovviamente cambiare anche e modificare la propria delega questi sono gli strumenti diciamo di democrazia e di rappresentatività nell'ambito della negoziazione degli accordi e dei contratti per sommi capi e molto diciamo semplificate ma questi sono gli elementi cruciali che ogni collega dovrebbe conoscere per prendere decisioni consapevoli rispetto al fatto che poi se non ti interessi del tuo lavoro subisci le decisioni di altri grazie a tutti